buongiorno ragazzi ci siete voi dove siete ok notte in bianco sì ok guarda la notte in bianco però ne vassa la pena mamma mia non per molto vabbè allora quindi va bene va bene allora ricapitolando ieri cos'è successo cioè chi erano quei cosi e cosa volevano da noi non lo so ma abbiamo guadagnato una perla primordiale che non so assolutamente cosa 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 serva allora prima di tutto fatemi riparare la mia armatura che gentilmente ci è stata offerta dalla signora di là e che quanto quindi secondo me c'è da andare nel netter a cercare che c'è qualcosa la che ci ha sfuggito magari la prima volta che ci siamo entrati neanche magari neanche la prima volta e anche la seconda quando siamo andati a cercare ok perfetto le come si chiamano le verghe ok quindi secondo me c'è sfuggito qualcosa devo svegliare ancora bene aspetta eh lascia stare ok adesso che mi ci fai pensare eh si io ho sentito qualcosa di strano nel netter c'è una cosa che di norma non dovrebbe esserci però prima di parlare voglio controllare perché non ne sono sicuro intanto andiamo mi era parso di sentire e andiamo andiamo dove è andato di light si è portato avanti si è portato avanti andiamo andiamo ad essere portale quindi avete tutto sì prego avete tutto pronto sicuri te perfetto fino al di light capisco va bene ok e aspettatemi porca di una miseria aiuto allora andiamo dritte per dritte non fermiamoci più di tanto non fermiamoci andiamo aiuto che scusatemi ma che succede pronto non lo so sì ok andiamo allora dritto per di qua eh verso il portale dritto per dritto allora comunque ragazzi chiedo scusa a tutti per la prima però veramente è stato è stato troppo è stato troppo è stato veramente troppo chiedo anche scusa a te di light chiedo scusa anche a te ok va bene aiuto va bene come non detto allora ma che cosa che hai detto guarda che ho in mano cosa in mano oi ma sei ma sei ma sei ma sei ma sei e sette che c'è con te cos'è cos'è cos'era cos'era allora basti cos'era 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 ma e Eh? Ah Non ho Non ho idea Vabbè Continuiamo È stato C'è una testa di qui Ehi Ma ok Ma scusatemi Ma tutti questi mostri Ma È strano No no Non c'era quello scheletro lì Scusami Che succede? Allora Strano Ma è la spada Come è la spada? Ho una testa di scheletro adesso Ah ma tutto è tutto Ah cioè tipo Lo saccheggio? Non è saccheggio però è potente Ma dai! Ok Ca miseria Ah ascolta io corro Corriamo dritto per dritto Appunto Ragno del mercoledì Viene Lo corro 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 Frega niente di nessuno Corri Allora il portale L'ho leggermente Ah no è di là Di là di là Di là di là Aiuto? Mi state dietro? Sì 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 sono dietro l'idea Light Hai schivato una freccia Hai schivato una freccia tantissimo Sì lo so Dove è andato? Light Dove? Lo perso Lo perso anch'io Dove è andato? Light Vai Ma magari ci raggiunge il portale Sì andiamo a portare Aspetta 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 Ci vuoi capare Ok Andiamo Aspetta che tolto Becca Aia No no Ferturo scusami No lo scheletto come fa A essere così veloce Non lo so Però l'ho ucciso Andiamo Gigi Perfetto Mi sono appena riparato l'armatura Va bene Lasciatemi stare Corri Allora Riesce il portale Ok mi sono leggermente spostato Però va bene La domanda è dove ti Non lo so Steccalo Dai Ok ci aspettiamo Ma Eccolo Fatti te l'ho detto Andiamo Capisco Andiamo Ok No non è di qua Ma è di là Ok di qua Ragazzi vai di qua Fatemi maniare Ok Ci siete tutti e due? Libo 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 Arrivo Eh vabbè Madonna E voglio sempre strada Vado dall'altra parte Scusi E cerca di starmi dietro Di starci dietro No Cerca di starci dietro Sto qua Sto qua Andiamo Ok di qua Di qua Siamo quasi arrivati Allora Ok ecco il portale Secondo me C'è qualcosa Qua in zona Che c'è sfuggito Quindi adesso Ci mettiamo a controllare bene Tutto Ok 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 Prima però c'è una cosa da controllare Se permetti Ti ricordi Eh infatti Qua dicevo io Siccome io sai che Le strade non me le ricordo Tu ti perdi anche Una strada dritta E infatti Ok Eh infatti Volevo andare proprio a controllare Allora Vediamo un po' Se qua c'è qualcosa Magari Boh Sopra No Non c'è niente Aiuto 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 Ok Aiuto Aiuto Dove sto saltare Porca Beh No Tutto uguale Qui sopra magari Qui dentro No Questo è il nostro vecchio bunker No infatti Direi Come mai sei così silenzioso Beh Nel suo motivo Vabbè Qua C'è qualcosa Qui c'è Sì qualcosa Ma Non No 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 Lascia perdere Lascia perdere Ok Allora io non voglio danneggiare l'armatura Anche perché l'ho appena riparata Mi seccherebbe un po' Andiamo di qua Magari qualcosa alla fortezza Però è impossibile Dai L'abbiamo controllata da cima a fondo A cima a sfondo Sì? Sì capisco Questo peso Esaurire il cibo Ci abbiamo tutta la scorta Di pane che abbiamo fatto Non me lo sono preso su Pipistrello Che mira Eh oh pipistrello è difficile da colpire da lontano Ok qualcosa qua Andiamo di qua Andiamo di qua Stati mi dietro Ok Proviamo a vedere Improbabile Però Ui Tu buco Ciao buco Ui Ok Ogni volta vi fa spaventare Ok andiamo di qua Boh Se tacciamo ancora tutto Se tacciamo ancora Aiuto Aspettate Secondo che c'è uno scheletro qua Upp Poca Andiamo Ragazzi ma voi non sentite un odore strano No Quella Questa puzza si la sentiamo già Ah 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 spiritoso Eh No non sento niente Non sento niente Quante robe No non sento niente C'è un odore che non mi convince No Andiamo di qua Boh Non so Riesci a capire Dove Che odore è tipo Ma Sembra strano Ma sento tipo odore di sangue Eh Sicuro che non senti il tuo fiato No ne sono sicuro al 100% Sento tipo odore di sangue Ma Non riesco a capirne bene Da dove proviene È un po' disperso nell'aria Non so Possiamo provare a cercare Puoi provare a capire Sì tanto io Che paura Sono qua Mi sono trovato un pigmento avanti Chiedo scusa Dove mi è andato È strano però Cosa ci fa del sangue qua? Cioè ok Sì che gli esseri sono fatti di sangue però Ah vabbè È strano Cioè è un odore proprio molto forte Cioè Perché qua ci sono dei blades Vogliamo guardare Qui qua Aiuto Ok Ok aspetta eh Allora Io freccio i blades Aia No 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 Scusa questo qua non c'era Che mira da me Aiuto Allora Andiamo un po' Allora Qua Lo senti più forte qua o Dibbo Eh domanda risposta Grazie Venite di qui Che Cos'è? Guardate qui Guardate che roba Ma un momento 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 Ma È qua Come qua? Provine da qua St'odore Non c'è niente Questa qua Ma non si Ma respira Prova a respirare Sento solo Oddio Sento solo Bravo È vero Aspetta Io ho idea Raga Oh Ma che è Ma che è Ma che è sta cosa? Aspetta Spegnetemi Che Guarda Spegnete Aiuto No 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 Fermo 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 Lasciami spegnere Lasciami spegnere Fegniti allora Oddio ma è vero Oh Ma che No No Guarda Il simbolo È lo stesso Che abbiamo fatto Quando l'abbiamo Crea Creato Oh mio dio Che c'è Che ci fa La stanza Diretta Era simile La stanza Sì Era questa Oh mio dio Parare candele Ma che roba Oh mio dio Cosa sopra Rune Una specie di rune E qua E cosa Si fa è diverso però E gli effetti Ci sono delle rune Questi qua Ma è stranissimo Cioè Poi madonna L'odore è proprio È proprio intenso È una pietra strana Una pietra strana Sì ma mi piace Mi piace Eh vabbè Oh Oh So inciampato Raga So sotto Sotto Come è Come abbiamo fatto Provate a toccare Più o meno La Ma c'è un tunnel Nella al centro Quella Ok Ok Divo Sono qua Ma che diavolo è Sta roba Che cos'è sta roba Ma che Che cos'è Ma È una mappa Sembrerebbe Di sì Oddio Sembra Non lo so Cos'è Ma scusate Comisola Sì In mare Non mi pare Dove ho mai visto Una roba del genere Neanche a me E poi Scusate Che ci fa Una mappa così Qua Cioè Sembra che Sapene la risposta Cioè Qualcosa che Toccare Io cosa ho fatto Chi è che ha toccato Io Scusa Se tu non hai toccato Tu non hai toccato Io non ho toccato Io sono qua fermo Mi si vede quando interagisco Scusate Pronto Io non ho toccato E manco io Oh Io Oddio Raga C'è ancora Sotto Puoi capasare Scusate Io Oddio Ma comunque È strano Perché Guarda Qua sotto C'è tutto C'è tutto C'è tutto C'è tutto C'è tutto L'altro Sono Non lo so Ma è molto Sembra tipo Fate che sembra Molto grande Sì Ma È precisa Sì Cioè Non sembra Un'isola Fatta Cioè È stata fatta Apposta Sì Ma poi Ci sono Quattro Colori Boh Non so Oh Io Io Spero che non ci sente Io Io la vorrei prendere Io la vorrei prendere Prendila Prendila Aspetta Aspetta Non ho spazio Prendila Dammi a me Dammi a me Tengo io Allora Prendita Prendita la mappa Ok Una ce l'ho Prendile tutte Prendile Prendile Non ho abbastanza spazio E troppole a me Le cose che non Che Ok Le cose che non ti sanno Dammi a me Quelle tre lì Quelle tre lì Prendile te E va bene Una l'avrà presa Eh Va bene Perché non ce l'ho Va bene uguale Va bene uguale Allora Io andrei a cercare Io andrei a cercare Io so Io Io mosso Curioso E Qualcuno qua Ha spaccato Come saliamo Non lo so Non ho blocchi Ah Perfetto Ah proprio così Ah va bene Va bene Va bene Va bene Ci so Boh Cioè è stranissimo La stanza così Ma Mo Adesso sono curioso Di vedere dove Quella Ah Siete tornati indietro Eh no perché Giustamente Sposta Volevo passare Va bene che abbiamo Anche i piccoli noi Quindi Sì Allora fate la vostra parte Eh Beh se hai un po' di blocchi Possiamo farci La scala Verticale Scusa No No Io sto dietro La di light Vai 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 Ok Ok Eccoci Eh ritappiamo Proprio Qui si Non se ne devono accorgere Non se ne devono accorgere Ok qua Più in cui ci sia Non se ne devono accorgere Ok Ok Come mai ce l'avevi tu L'altro blocco L'ho staccato io Ah Ok Scappiamo È meglio scappare Sì Prima che Eh Genio Oh Cristo C'è 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 Non è il momento Non è il momento Scusa 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 Aiuto Non sto capendo niente Madonna Non lo posso colpire Come so Non lo posso colpire Non lo posso colpire Allora Corriamo Corriamo Via Fuga 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 Corriamo Corriamo Ragazzi Ditemi che mi siete dietro Aiuto Ragazzi non riesco a mangiare Aiuto Corri 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 Ok Vi attorno Aiuto Di qua Quassù Qui ci so Ragazzi ci siete? Dove siete andati? Porca miseria Eccomi So qua Ok di qua Di qua Di qua Oh adesso Oddio Ci ha beccati Ci ha beccati tantissimo Ci ha sgamati in pieno Porca miseria Beh in effetti è un po' la sua zona Quindi Oh è là Scusami Aiuto Beh È entrata nel bug Mamma mia Cioè un pipistallo preciso Andiamo Fughiamoci Fughiamoci Adesso sono curioso di andare a vedere Questa struttura qua Cioè È immensa È veramente immensa Poi Allora Sono compiaciuto che è preciso Perché Riga Sì Qui c'è qualcosa che non va Eh no Qui c'è qualcosa che Vabbè usciamo 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 Ci siete? Siete dietro di me? Io ci sono Perfetto Ok Di qua Io uscirei anche da questo Fa niente Voglio uscire il prima possibile Usciamo Ma sì usciamo 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 Via 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 Fuga fuga Eccomi Buongiorno Eh sì Buongiorno Eh Ok allora Buongiorno Più o meno Oh Oh vado giù ragazzi L'ho visto Magica Porca miseria Non riesco a colpire Capisci Pistrello Ok 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 Dibbo Sono qua Dove Qua Non ti vedo Ma che sei visibile Come sono invisibile Non ti vedo Nemmeno io Ma come funziona Non lo so Guarda eh Dammi in colpa Quella Lo vedi Ah In effetti sei qua Ehm Sono qua Beh Dove Eh 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 Scusami Cosa Eh Eh Boh Invisibile Arti magiche Altro che la bacchetta Di Light Dove è dato Aspetta la mappa La mappa La mappa Eh ma non ce l'abbiamo intera Ce l'ha anche Light dei pezzi Qualche miseria Vero Io non riesco a vedere E poi lì Oh Noi camminiamo Al massimo Poi Boh Magari Aspetta un attimo Fammi Fammele mettere anche a me Così almeno Bah Eh magari Sì Lui potrebbe essere Eh Cose Potrebbe essere Già andato avanti Probabile Però io ho solo due pezzi Tipo Fa niente Ahia Tanto Visto che è un'intera struttura Dovrebbe essere Semplicemente Vicino Cioè Nel senso Dovrebbe essere Tutta unita Ci sei sulle piante Sì Ma Ok Vabbè Pensavo fosse Di Light Vado un po' Ti giuro Ho visto l'armatura Ho detto Ah ok Ci siamo tutti No E invece Io mi sto ispirando Di Io mi sto ispirando Di qua Ma Non so se la Ma poi non dice niente Non mi Non fa niente Non lo so Noi proviamo Andiamo verso di qui Sì Voi sto provando Andare di qua Però Sai come sono io Con Sì Tu e l'orientamento Guarda Sette Due palazzi diversi Radicamente Tu sei quello rustico L'orientamento È quello Ipermoderno Che l'unica cosa moderna Non capisco È stata una capanna Ok Dibbo Ci sei Eh Eccomi Ok Qua c'è un mare Non mi sembra di vedere Questo è un cacciatore Non toccarlo A meno che non ti tocca Chi lo tocca Mi dissocio Qua c'è qualcosa Boh Via qua Ma è qua Boh Può andare Andare in mezzo qua Però Io non vedo niente Vedi qualcosa Tipo 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 Non so se c'è Visto Ma c'è un side La guardalo Lo vedo Lo vedo Allora non penso ci senta Spero Perché Che costa con la spada Scusa Lui c'è Non lo so Con la spada Così a caso Non mi capisco Ma c'è Dici che c'è visto Secondo me si Dici Oddio ho scoperto Dove ho Attento al creep Aspetta Aspetta Zitto 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 Ok perfetto Piano Ok Oh oh Vieni qua Vieni qua Vieni qua Aspetta Non sei Allora Aspetta Mi avvicino Tu stai qua Tu stai qua dietro Si Aspetta Io ho Aspetta Un attimo Dimmi 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 Mi vedi Si Ok Non mi vedono loro Non mi vedono Non mi vedono Ho una È sparito Oddio è sparito Non mi vedono loro Così Così non mi vedono Ok Oddio è stato andato Che sarò Ok Ok Delight che ci fai qua Delight Che ci fai qua Ti sei portato parecchio avanti Ho seguito la mappa Ah ok Ti ha condotto qua Guardate là in alto Dove? In alto dove? Perdonami C'è qualcosa là in alto Io non vedo niente Cosa vedi? Televisioni Aspetta Scusami eh Io non vedo niente Non vedete Oddio Hai ragione Aspetta Raga Oddio Vedo il puntino Sulla mappa Raga Che cazzo Ma Cos'è? Un'isoletta Scusate Ma in aria Questa sta in aria Questa è in aria Tipo? Non so Cos'è sta Sono senza parole Ma che è? Che è quello sotto? Cos'è quello sotto? Sembra Ma bene Sì Vedo Ah ok Mi sono commentato Che là c'era Un'isola Strana Non è un Oddio 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 Aspetta 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 Madò Non ci vedo Aia che stecca Madò Ma scusate Ma come fa Oh mio dio No vabbè Ma è ben sa sta roba Problema Cosa facciamo ad arrivarci?